Benvenuti cari ragazzi nella video recensione di lui, OnePlus 5, smartphone di punta di casa OnePlus, il nuovo flagship killer, OnePlus 3, OnePlus 3T, telefoni che nel mio canale YouTube sono piaciuti a voi utenti. Mi raccomando, dobbiamo battere il record di quasi 1400 like su OnePlus 3T sei mesi dopo, quindi dovete tassativamente spolliciare il tasto in su, quindi spaccate quel tasto, battiamo quel record e mi raccomando, non chiamate OnePlus 5, iPhone 7 Plus e adesso vi spiegherò il perché. Facciamo subito partire la nostra sigla! Prima di parlare di come va OnePlus 5 in utilizzo quotidiano, vi metto a confronto questi due smartphone, eccoli qua, vedete lui OnePlus 5 sulla parte qua, sulla mia mano destra, lui iPhone 7 Plus sulla mia mano sinistra, perché vi dico ragazzi non li paragonate, perché sono due smartphone completamente differenti e non solo perché ovviamente la versione software, chiaramente Apple da una parte, Android dall'altra, sì, ok, le due fotocamere sono poste nella medesima locazione, vedete, proprio nel medesimo posto, ma principalmente per un problema di struttura, la fotocamera di OnePlus 5 entra ed entrava solo in questa zona qui, ecco perché il paragone, effettivamente i primi rendering di OnePlus, i due telefoni, assomigliavano tantissimo uno a fianco all'altro, nell'utilizzo quotidiano vi posso assicurare che sono due smartphone completamente differenti e vi metto adesso da parte iPhone 7 Plus perché non ci serve assolutamente in questo video. Allora, OnePlus 5 è costruito in maniera davvero perfetta da parte della casa cinese, io mi ricordo il primo OnePlus, ovvero OnePlus One, che ovviamente si comprava tramite il sito ufficiale, tramite i vari inviti, aveva una costruzione molto approssimativa, ma era anche un'azienda approssimativa, invece il OnePlus 5 di oggi, intanto questo ci arriva direttamente da OnePlus, che ovviamente ringraziamo, è un telefono costruito benissimo, non ci sono scricchioli, non ci sono giochi del frame perimetrale, proprio il tutto è costruito al meglio, abbiamo lo stabilito tipo C nella parte inferiore, lo speaker, il primo microfono, abbiamo l'ingresso del jack da 3,5 mm, una dual camera nella parte posteriore con la possibilità di andare a zoomare la nostra foto e con la possibilità di effettuare un effetto bokeh simile a quello di un iPhone 7 Plus, ad esempio il secondo microfono, il dual led flash, una parte destra con bilanciere del volume e l'ingresso, ovviamente per le due sim in formato nano, non si può espandere la memoria, poi vi dirò il perché, il tasto zigrinato qui nella parte sinistra con accanto il bilanciere del volume. Un sensore biometrico nella parte frontale che funziona meravigliosamente bene, non ci sono problemi, non ci sono impuntamenti anche quando andiamo a sbloccare il device ed è costruito in ovviamente ceramica come gli altri, ma soprattutto il software segue anche questo sensore perché tramite un tap prolungato si può andare a buiare il display, vedete in questa modalità qui, si può andare a reattivarlo con chiaramente lo sblocco, ci sono altre funzioni, tasto menu nonché anche multitasking, tasto back e tasto multitasking che si possono tranquillamente invertire via software, si può personalizzare l'interfaccia tramite i temi, abbiamo un tema scuro per andare a sfruttare il display AMOLED, il display AMOLED è da 5.5 pollici che si vede benissimo sotto la luce diretta del sole. Ricezione parte telefonica dello smartphone, assolutamente di livello, abbiamo la banda 20, abbiamo un audio in capsula che si sente bene e anche l'interlocutore non ha avuto problemi. Abbiamo uno speaker buono, adesso vi faccio sentire subito una canzone a caso di Spotify. Avete sentito molto forte come audio, non ho mai perso una notifica, mentre per quanto riguarda il grip proprio in utilizzo quotidiano, è uno smartphone che si fa apprezzare, è un 5.5 pollici, ma le due curvature nell'estremità dello smartphone donano davvero una portabilità e soprattutto un'usabilità eccezionale. È uno smartphone che non mi ha fatto venire voglia di inserire una cover perché mi potesse scappare, perché mi potesse venire utile, ecco una custodia, anche se sullo store ovviamente c'è quella in Kevlar che mi strizza al quanto l'acquisto e penso che poi ovviamente lo vedremo più avanti. Quindi vi dicevo, comunque un telefono che proprio lato telefonico fa il suo egregio lavoro. Ovviamente ragazzi il software è Android in versione stock, customizzato da OnePlus, una customizzazione non aggressiva, secondo me una customizzazione, come vi ripeto sempre, molto molto interessante ed efficace, grazie anche alla possibilità di cambiare ad esempio un pacchetticone oppure molto banalmente ecco fare uno swipe sulla nostra home nella parte sinistra e interagire con dei widget, interagire con delle applicazioni usate più di frequente come anche dei contatti che chiamiamo di frequente rubrica e quindi abbiamo tutto davvero a portata di mano ed è quello che secondo me fa la differenza soprattutto in utilizzo quotidiano ed è uno smartphone che sapete bene io ho amato tanto OnePlus 3, OnePlus 3T e questo 5 secondo me è l'evoluzione di un prodotto davvero importante. OnePlus quest'anno ha fatto un lavoro di marketing davvero molto intelligente, aggressivo e secondo me a livello dei competitors principali. È un'azienda che è partita veramente con niente e adesso vanta addirittura 500 dipendenti proprio lato assistenza, lato anche live chat dove potete ovviamente interagire con il servizio assistenza, quindi è un'azienda davvero internazionale quasi a tutti gli effetti. Inutile dirvi che lo smartphone gira bene, gira bene in ogni reparto, nessun impuntamento, possiamo veramente tenere tutto aperto. Snapdragon 835, 6 o 8 GB di memoria RAM a bordo ragazzi, ci sono dei PC che non hanno neanche 8 GB di memoria e questo OnePlus 5 versione 8 GB ha 128 GB di storage interno. Quest'anno veramente si sono fatte le cose per bene, si sono fatte le cose davvero da top di gamma. giocare a un gioco pesante come Real Racing 3, Asphalt 8, giochi che richiedono tanta grafica, chiuderlo, passare magari a Facebook, passare a un Telegram, passare a quello che volete, su questo smartphone non ci sono assolutamente problemi. Il display 5.5 pollici in un'unità full HD, il solito display che era e che è tuttora su OnePlus 3T, un pannello Super AMOLED che si vede bene sotto luce del sole, che non ha problemi a livello di sensore di luminosità, se vogliamo fare i pignoli, secondo me si poteva forse passare anche a un QHD, visto che chi ce l'ha più grosso non lo richiede. Onestamente ho ad esempio anche HTC 11 qui dietro di me, che ha un pannello QHD, la differenza si nota veramente in minima parte. È giusto per, così, per dettaglio, inserirvi anche la possibilità di magari vedere un ulteriore OnePlus con un pannello che passa a una risoluzione ancora più alta per quanto riguarda i contenuti VR. Vi dico, a livello di utilizzo quotidiano, se ne può fare tranquillamente a meno, e andiamo a risparmiare sulla batteria. Batteria che da 3.300 mAh su questo OnePlus 5, l'autonomia è buona, sono riuscito ad arrivare intorno alle 4 ore e 30 di display con una batteria che in stand-by consuma veramente pochissimo. Siamo proprio a livelli di iPhone, paragonandolo ad esempio a un 7 Plus, dove i dispositivi vengono tranquillamente lasciati in stand-by sotto la rete Wi-Fi e in entrambi i casi abbiamo la stessa identica percentuale. Si va a consumare circa il 2% ogni ora quando li teniamo in stand-by, fermi sotto la rete Wi-Fi. Un'autonomia che comunque vi può portare tranquillamente a sera. Io vi dico sera intorno alle 20.30-21, con 4 ore e 30 di display, siete intorno al 10% di autonomia residua. Doppia fotocamera posteriore, 16 megapixel, abbiamo la possibilità di utilizzare la seconda camera con un'apertura focale 2.6 per effettuare una foto in modalità ritratto, la fotocamera, il sensore principale da 1.7, con una frontale che anch'essa è da 16 megapixel. Si è parlato tantissimo della mancanza dello stabilizzatore ottico, serve, non serve, OnePlus ha detto secondo noi non serve su uno smartphone, perché comunque la qualità di un'apertura 1.7 vi permette di scattare foto nel 99,9% delle situazioni senza sentire la necessità di uno stabilizzatore ottico. Come funziona questa fotocamera? Vi lascio ragazzi agli scatti e mi raccomando, in descrizione, link a Google Drive e trovate gli scatti originali, ve li scaricate e li potete osservare sui vostri PC o anche Mac se lo avete. Grazie a tutti. 499 euro la versione da 6 gigabyte di memoria RAM, 64 gigabyte di storage interno, 559 euro la versione, 128 gigabyte di storage interno, 8 gigabyte di memoria RAM a bordo. Vale i soldi che OnePlus chiede per questo OnePlus 5? Ragazzi ormai non lo so, onestamente non so darvi una risposta, io vi posso dire che tecnicamente il dispositivo è uno smartphone valido, anche perché su quella fascia di prezzo si possono trovare molti smartphone, ovvero i 6 ma sono sempre dietro l'angolo. Io penso che chi vuole OnePlus ad oggi vuole comunque avere una community dietro, vuole avere degli update in maniera molto rapida e veloce, vuole avere una community anche di modding, anche se ultimamente il modding non esiste quasi più, perché una volta si moddava per fare andare un telefono, oggigiorno onestamente, il modding lascia veramente il tempo che trova, onestamente per me è migliorato, è migliorato in touch and feel, perché il 3T è molto squadrato, il 3T è molto squadrato, è tuttora, invece questa ha le forme più curve, mi piace molto di più al tatto, vi posso anche dire però allo stesso tempo abbiamo meno innovazione, abbiamo meno rivoluzione in ambito proprio tecnologico su questo smartphone rispetto ai predecessori. Se uno proviene dal OnePlus One, OnePlus 2, assolutamente l'upgrade è necessario, OnePlus 3T non lo so, onestamente non so se merita l'upgrade, almeno che non vi piaccia fotografare in maniera diversa, immaginiamo la modalità portrait, se non vi interessa ad esempio non avere una fotocamera stabilizzata, la mancanza dell'impermeabilità non è una mia funzione principale, a meno che vabbè non voglia fare il pazzo andare a fare un bagno di 30 minuti con OnePlus 5 in tasca, diciamo che nel globale è uno smartphone che fa il suo, fa il suo lavoro, magari ecco non eccelle in tanti fattori, come ad esempio c'è un po' di rumore quando la luce cala, manca lo stabilizzatore per tanti, magari potrebbe essere un problema, non lo so, altre funzioni che a voi mancano, assomiglia tanto ad un iPhone 7, ma vi ho fatto vedere, ma soprattutto vi assicuro che dal vivo non è assolutamente così, quindi è uno smartphone che ad oggi io consiglio comunque di valutare, consiglio di acquistare, e soprattutto voglio vederlo contro gli altri, voglio vederlo nel tempo se può calare questo hype che l'azienda comunque ha mandato su tutti i nostri canali, su tutte le nostre menti, e se sarà veramente nel tempo uno smartphone che anche dato aggiornamenti verrà seguito. Questo lo scopriremo solo continuando a seguire le mie video recensioni. Io per adesso ragazzi vi saluto, vi ringrazio, vi invito a condividere il video e come di consueto ci sentiamo nelle prossime recensioni. Ciao a tutti ragazzi!